3,3,3,3,3,3 e dopo si uscire, e andiamo Allora, cosa è successo oggi? Oggi è successo che è l'ultimo giorno in zona gialla che ci permette di poter uscire da domani arancione per due settimane, in verità volevamo andare sui montagna ma non eravamo organizzati con le ciaspole, abbiamo provato a noleggiarle ma le avevano esaurite già da tutte le parti e quindi abbiamo deciso di fare questo percorso che è un percorso molto semplice però allo stesso tempo bello e panoramico e in questo momento siamo sul castello di Ragonia ed è veramente carino venirci perché vedete c'è un panorama eccezionale il castello è tenuto veramente molto bene I don't understand why you're taking off First you say you love me now you're breaking it off You had me at low and then you pass go and collected your greens Easily it seems oh Tell me did I do something wrong or did you invite someone to this song I don't wanna stop by criticising you but since we don't talk there's nothing left to do No But this won't be my heartache no This will be your mistake oh Go ahead and run Go ahead and run This will be your mistake oh Allora una volta arrivati in cresta sul monte di Ragonia si fa un piccolo percorso proprio in cresta ed è molto molto bello perché si vedono tutte le montagne e il corso del tagliamento e il sentiero è in saliscenti però molto morbido e leggero molto piacevole vero You were all I had ever dreamed of A perfect face and a perfect smile Boy you rock my world style With style Now you wanna go You wanna leave it all behind And throw it away Oh it's eating of me baby Oh I don't know what you believe or say But this won't be my heartache no This will be your mistake oh Go ahead and run Go ahead and run and run and run Allora di fatto non abbiamo visto la stradina che girava a destra e si portava poi sul tracciato per ritornare a casa ma siamo proseguiti lungo la strada normale e arrivati a un bibio dato ovviamente non ci sono indicazioni dove c'è la formata dell'autobus e lì bisogna girare a destra Allora in verità facendo la strada giusta cioè scendendo per l'813 saremmo dovuti sbucare qui In verità noi l'813 non l'abbiamo visto e comunque alla fin fine se si fa la strada normale oppure se si prende il sentiero entrambi si ricongiungono e poi ricominciano le segnalazioni This won't be my heartache no This will be your mistake oh Go ahead and run Go ahead and run and run and run This will be your mistake oh It won't be my heartache no Go ahead and run and run Go ahead and run and run Noi siamo arrivati dove? Allora noi adesso siamo arrivati qua Ok Continuiamo con il percorso l'813 per arrivare fino a San Giovanni in Monte Poi dove chiaramente ci sarà una croce Scendendo potremmo o decidere di proseguire e arrivare a Muris Si Però non vedo tanto il motivo comunque la nostra intenzione invece è quella di proseguire continuando con l'813 per pian piano scendere Dobbiamo tornare qua Eh no Da dove siamo partiti Perfetto Cioè se non c'eri te io mi ero già perso Perfetto Che quello mi porti con te Si eh Perfetto Perfetto Perfetto